In vista della fase 2 e consci dell'esperienza che stiamo conducendo nella fase dell'emergenza, la fase 1 del coronavirus, abbiamo ritenuto come associazioni facenti parte dell'osservatorio sulla salute mentale di avanzare delle proposte ai dipartimenti di salute mentale e manager delle asle alla regione. Questo perché si migliori nettamente il passo rispetto al trattamento delle persone che hanno problemi di salute mentale. Nonostante le norme, in particolare gli articoli 47 e 48 del decreto legge del 17 marzo numero 18 e l'ordinanza del Presidente della Regione numero 3 dicano delle cose assolutamente condivisibili, sia sul funzionamento delle attività, su come sostituire ai centri di urni le attività alternative e sul fatto che il trattamento ambulatoriale della salute mentale debba continuare esattamente, diciamo, non non è sospeso. Di fatto però, sia per la mancanza dei dispositivi di sicurezza, ma anche per un diverso modo di lavorare dei centri di salute mentale, di fatto ci siamo trovati di fronte a gravi difficoltà, lo dico anche come familiare, insomma. I centri di salute mentale, alcuni hanno in effetti continuato a funzionare normalmente, seppur con le giuste precauzioni, altri invece hanno di fatto sospeso le attività limitandosi alle urgenze e consentendo un accesso solo di tipo telefonico. Ecco, noi quindi abbiamo, in vista della fase 2, abbiamo voluto richiamare l'attenzione dei direttori dei dipartimenti di salute mentale, all'interno dei quali spesso due centri di salute mentale si comportano in modo del tutto opposto, a dare invece gli indirizzi molto precisi perché i centri continuano a funzionare normalmente, perché gli orari consentano gli accessi anche pomeridiani e del sabato per tutti i centri di salute mentale, oggi non è così, perché ci sia più trasparenza anche nella comunicazione, se una persona ha bisogno di sapere come funzionano i servizi in effetti ha un po' di difficoltà. Abbiamo proposto anche ai manager delle ASL, vista la discussione che si sta facendo sul fatto che bisogna potenziare la medicina sul territorio, che anche la salute mentale abbia un posto di riguardo all'interno di questo ragionamento, abbiamo proposto al Presidente della Regione, all'assessore alla salute e alle pari opportunità di attivare finalmente il tavolo sulla salute mentale e di fornire linee guida per i dipartimenti di salute mentale, ma anche per noi volontari, per tutta una serie di esigenze che abbiamo di spostamento nelle attività.